la gente, salve, si lo so, ci conosciamo da tanto tempo, però è una formalità che mi viene sì, nuova missione, ok, è una missione sotto copertura, sì, sono tante in questo periodo, periodo pieno, ok, ti vedrò, certo, vediamo un po' di cosa si tratta, tu lo sai, ok, è un evento formale, spionaggio, ok, vediamo, ok, sì, ok, allora è un evento formale, sì, è vero, e da quel che vedo qua, no, c'è bisogno, non devi passare assolutamente in osservato, devi farti notare, giusto, e vedo che appunto potrebbe essere un po' rischiosa, come l'outfit, ok, per le pistole, perfetto, quindi tutti i vari accessori passano nell'outfit ben nascosti, come? Ah, il rossetto, che sotto c'è, ok, vorresti qualcosa che sia coerente? Ovviamente, il rossetto di che colore ha? Rosso, e ha sotto un chip, un chip, ok, da lasciare lì? Sì, quindi è una cosa che si dovrà vedere? Certo, cerchiamo di fare dello stesso colore, ok, va bene, farà il mio meglio, cambieremo anche un po' i connotati del viso, in modo da camuffare un po' la tua persona, da non farti riconoscere, cominciamo! Sì, prenditi un secondo per rilassarti, preoccuparti, siano gente, fantastico non ti avrebbe approfittato una missione così difficile se fosse al contrario grande gente uso una base per il viso perché il trucco finalmente si dovrà durare non dovrei partire insomma il fatto che appunto mi cambierò un po' con i dati la forma del viso non è bene che duri tanto quindi ti metto un po' di primer per il viso su questo qua ok sì, rilassati qui è Alla prossima. E' un nuovo di fondotinta. Cercherò di renderti un po' la pelle più chiara. Sì, infatti dovrei andare a fare la tinta chiara. Utilizzo questo. Che è molto comodo. Tra l'altro stanno brevettando un nuovo accessorio con questo tipo di fondotinta da buttarsi dietro. Insomma, è un rossetto. Ed è un cushion. Cushion, 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 cushion. 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 che servirà a nasconderti tra virgolette ma non potrei essere inosservata si guarda un po' più su ancora un po' di cuo si guarda un po' più adesso ti metto un po' di cipria non mi ricordo bene che tipo di pelle hai scusa fammi vedere si ha tutte le database ok, mista quindi allora va benissimo questa cipria di nulla ok ok Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Ok, ottimo adesso Sopracciglia, vedo che sono molto in ordine Li metterei un po' di gel per fissarle Questo colore va bene perché li metterei a barrucca Esatto, immaginavo infatti c'era scritto Metto un po' di mascara per le sopracciglia Ok Adesso passiamo alla parte importante Ovvero Il contouring Allora, ti metterò un po' con barretto Solo che faremo delle belle labbra rosse E un contouring bello, bello marcato Usirò ovviamente i soliti tre prodotti Da contouring, la matera, il melante e il blush Iniziamo con la terra Allora Inizio con Fare un po' di contouring Allora Solmente insomma In questa zona E anche qua sotto lo zigomo Beh, sotto la guancia Scusa Sotto la guancia E Prenderò un po' più avare il viso E ovviamente fare un po' di contouring Classico qua sotto Ok Dimuro Escriかった Non Quora Lacgeschique N off animations Ma Mi Questa 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 L'amore Hospital dep ed perfetto adesso prendo un pennellino piccolo piccolo e facciamo un po' il contouring al naso e alle labbra si cercherò di allungartelo un pochino il naso e tirarlo un po' su ok? allora ok 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 sulle labbra ok adesso metto un po' di blush e te lo metto qui al centro si sembra per cambiare un po' la forma del viso su questo molto naturale di MAC poco poco ok adesso mettiamo l'illuminante metto questo che è bellissimo e molto luminoso ma non ha glitter quindi serve proprio per dare l'effetto tridimensionalità e metto i kulak ne prendo un pochino un po' sugli zigomi un po' sul nasino sul bucchio ok perfetto per quanto riguarda gli occhi appunto non farò nulla di che mettiamo magari un po' di eye uso questa palette che è molto bella si la uso molto spesso è vero e mettiamo un po' metto un po' di marroncino questo qui e un tocco di mischiato un tocco di rosso un po' all'esterno metto prima il marroncino rosso si per riprendere il rosso del rossetto ok ok e adesso metto un po' di rosso giusto un po' all'esterno così sfuma 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 ok ok? adesso metto un pochino di eyeliner per cambiare un po' la forma dell'occhio io su questo qua di la crime e gli occhi vero vero ok e completiamo col mascara uso questo qua di shock guarda non ho gli occhi chiusi ma neanche aperti insomma tieni un pochino sono chiusi verso il basso si sono chiusi verso il basso per forza un po' sono chiusi 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 ok 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 passiamo alla questione labbra allora mi hai detto che il rossetto è rosso ma preferisci qualcosa di no transfer quindi che non lasci che non lasci nessuno stampo un rossetto rosso bello lucido lucido no sangue rosso sangue ok facciamo un bel rosso sangue non rischierai veramente no non farmi preoccupare ok va bene allora farò un misto tra questi due un rossetto liquido che comunque non è no transfer e un rossetto lucido tinta iniziamo con questo qui che è bellissimo rosso tiri le labbra e cosa ho da leggermente aperte tirate ok ok e metto adesso un po' del rossetto e metto adesso un po' del rossetto questo qua ok no un po' sprofumatissimo ok 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 finito giusto il setting spray di cucchiere sempre perché deve durare tanto ok 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 bene le auguro una buona lezione è davvero attenzione ci vediamo alla prossima missione ok 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 ok